buongiorno e buona domenica a tutti gli amici del canale innanzitutto grazie grazie a voi tutti abbiamo raggiunto quota 2000 iscritti secondo me è un bellissimo traguardo grazie a chi mi segue a chi passa ogni tanto sul canale mi lascia mi piace vi invito a iscrivervi per diventare ancora più numerosi comunque ancora grazie 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 ragazzi di esserci parliamo di ieri di juve udinese ma subito un pensiero al nostro capitano eroe gianluca vialli giornata veramente commovente penso che soprattutto alle persone della della mia classe della mia epoca che hanno vissuto l'era di viali di marcello lippi del piero nel mio caso anche di platini questa questo sabato non possa essere andato via senza senza una lacrimuccia il pensiero di un uomo di 58 anni portato via da una grave malattia fa un dolore fa un dolore tremendo ed è ancora più forte quando comunque questa persona tu l'hai vissuta e ha fatto parte della della tua generazione quindi un grosso saluto a luca chiaramente un abbraccio fortissimo alla famiglia per quanto riguarda la partita la partita chiaramente va via con l'ottava vittoria consecutiva con l'ottavo clean sheet consecutivo quindi otto partite senza senza prendere gol ho sentito molti di noi ancora essere molto critici su questa squadra che per carità non entusiasma per per il gioco ma criticarla in questo momento e secondo me da folle da folle perché innanzitutto una squadra che non prende gol da otto partite significa che sta iniziando ad essere squadra cosa che prima non eravamo massimiliano allegri per il quale io non ho mai speso delle parole di elogio mi devo comunque ricredere perché è riuscita a ricompattare la squadra nelle nelle difficoltà ha alzato le rotazioni dei giocatori un po per volontà e tanto per necessità visto i numerosi infortuni che ci hanno colpito ma questi giocatori quindi i fagioli sulle i miretti moise ken iniziano a girare nei 90 minuti in maniera stabile avremo sempre bisogno di loro sempre di più quando gli impegni si raddoppieranno con con la coppa tenete presente che in panchina abbiamo ancora il in junior che ieri non è non è entrato per esempio quindi un plauso un plauso ai ragazzi che finalmente stanno mettendo attenzione cuore e grinta e un bravo anche ad allegri che nelle difficoltà e nelle critiche comunque ha ricompattato l'ambiente cosa per nulla per nulla facile e non e non da tutti molti e sarebbero affondati invece lui è rimasto ben saldo al timore e sta dimostrando anche in conferenza stampa una tranquillità che non gli riconoscevamo inizio stagione inizio stagione molto più lucido nelle analisi delle partite dice apertamente le cose che non vanno ed elogio a quelle che vanno quindi è cambiato è notevolmente cambiato messina non lego e quindi un bravo bravo a lui chiaro è chiaro è che noi siamo la juventus e che se a fine anno dopo l'uscita della champions avremo fallito tra virgolette e quindi tutti a fare gli scongiuri avevo fallito sia in in europa con l'europa league che in campionato chiaramente la stagione rimarrà comunque fallimentare però non pensiamo noi siamo negativi per il futuro rimaniamo concentrati adesso soprattutto per la sfida a napoli che indipendentemente dal risultato di oggi con la sap potrà riaprire comunque al cento per cento lo scudetto una piccola parentesi anche sull'inter ieri pareggia due a due il monza non ruba niente nonostante i piangina del dell'ultimo minuto ricordo questo brutto malvezzo italiano che prima della conferenza stampa si dice faremo stato di qualità quando non guarderemo più chi è l'arbitro e poi dopo due ore quando le cose non ti sono andate bene inizi di nuovo a piangere sulla classe arbitrale almeno questo in casa nostra non ci appartiene e ricordiamo che tra juve salernitama e juve roma alla squadra di torino alla nostra juventus mancano ben quattro punti che oggi oggi al netto della partita che deve fare il napoli con la sap e ci vedrebbe in testa con i partenopei quindi iniziamo anche questa cosa mi mi fa mi fa veramente molto piacere perché ci differenzia da un certo tipo di tifoserie e continuiamo a differenziarci mi raccomando non buttiamoci nel nel calderone ieri le prestazioni dei giocatori sui sui singoli a me particolarmente è piaciuto molto moise ken anche se poi non è andato a segno ma ragazzo si sbatte corre lavora inizia anche a sbagliare meno tecnicamente se guardate perché la palla la inizia a tenere senza quelli stop a inseguire ed inizio anno la difesa ha retto benissimo il colpo non abbiamo sofferto e anche i contropiedi che abbiamo preso c'è stato un ritorno di tutti i giocatori immesso rabbio che mi dispiacerà veramente tanto dopo questi due anni perderlo perché è cresciuto e ha dimostrato veramente di essere un giocatore di altissimo livello mckenny a tratti miretti a tratti allegri quando ha sgridato sulle perché non ha portato la palla alla bandierina mi ha veramente esaltato e queste sono le cose magari dei ragazzi un pochino più inesperti che non hanno capito che lì bastava cambiare il passo andare sulla bandierina e portare gli altri altri 30 secondi mi sbaglia un gol clamoroso non è da lui non entra bene in partita costi non è ancora non è ancora in forma diciamo che tutta la squadra viaggio al 60 70 per cento quindi auguriamoci di avere questa squadra al 100 per cento anche con un di maria pochino più brillante che si faccia vedere non solo sui calci di punizione ma con maggiore continuità magari un parede che verticalizza di più esattamente come chiede allegri giocando meno sul corto che poco serve perde si perde il tempo di gioco e poi un chiesa che a sinistra è devastante adesso abbiamo visto come sparisca un pochino dai radar male malissimo ancora locatelli la seconda prestazione di seguito al di sotto dei suoi standard speriamo che sia solo una questione di forma di forma fisica mentre la difesa devo dire bene anche gatti con un beto che non era assolutamente facile da da contenere lo stesso alexandromi l'ho visto più in palla rispetto agli anni passati speriamo almeno di avere recuperato questo giocatore da qui aggiunto allora per oggi è tutto tifiamo stasera santo dolorea e proiettiamoci allo scontro diretto a napoli fino alla fine forza di ventus ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti